Bu! Ah, le donne, i Ghostbusters donna, vi dovete spaventare, uuu, uuu, le donne, le donne nei Ghostbusters, uuu, che paura! Abbiamo un sacco di cose di cui parlarvi, ma prima, sigla! Mazzate ed esposioni, smitraglie e pallettoni, marmellata di cepponi e di 400 calci! Mazzate ed esposioni, smitraglie e pallettoni, marmellata di cepponi e di 400 calci! Quando delle donne si sono vestite a Ghostbusters e ce la siamo fatta addosso, ne ha spaventati fortissimo! Abbiamo detto, che è sta roba? Non sia mai! Siamo scesi in piazza e l'abbiamo fatta vedere! Buon vabbè! C'è un sacco di gente super antipatica che all'epoca si è, ha veramente lato del peggio di sé, è stato molto divertente! Va bene! Comunque, io direi, allora, innanzitutto, l'ho detto il numero della puntata, no, siamo alla puntata numero 162 della 400 Live! Però, prima di parlare di Ghostbusters, perché parleremo di Ghostbusters, secondo me non c'è andata benissimo, ma ne parleremo dopo! No, aspetta, la prima cosa da fare è ovviamente ringraziare per gli abbonamenti, perché questi sono arrivati al volo e quindi li ringrazio subito! Cominciando da, abbonamento di livello 1 per Mazinger Data Jones! Grande Mazinger! Il grande Mazinger! Grande Mazinger Data Jones! Siamo assolutamente onorati, poi, abbonamento di livello 1 anche per Killbane 81, grazie mille! Grande Killbane! Abbonamento di Real Santos 80 che si è abbonato per il diciannovesimo mese consecutivo, è la prima volta che vedo un 19 mi sembra, e comincio veramente a sentire, non so, stiamo andando avanti da tantissimo, sono emozionato! Eh, ma bullizzare Timothée Chalamet sta dando i suoi frutti, vedi, sono tutti molto molto carichi per questa cosa! Passa in fretta! Abbiamo trovato l'incentivo giusto per farvi abbonare, gli schiaffi a Timothée Chalamet, quando ti diverti il tempo vola! Esatto, ovunque, grazie mille per l'abbonamento anche a Abel Bilbo per il diciantecimo mese consecutivo, sono già schiaffi sulla nuca a Timothée Chalamet, che tra l'altro, non so se lo sapevate, ma questo sabato lui era al Saturday Night Live, l'ho visto troppo a Arzillo, perché secondo me gli dobbiamo attirare qualche schiaffo in più. Ha fatto il monologo di apertura, proprio? Ha fatto il monologo, era ospite a... La devo recuperare subito. Peggio, Terence ha cantato il monologo d'apertura. Ha cantato? Io non l'ho guardato il monologo d'apertura. Comunque, Kill Bane si era abbonato per 15 mesi consecutivi, quindi uno schiaffo sulla nuca a Timothée Chalamet, anche da parte sua. E un grazie... Ah, questo è arrivato adesso. Abbonamento di livello 1 anche a Mattia Triplo, grazie mille. Grande Triplo. L'unica cosa che volevo dire, non so se guardate il Saturday Night Live abitualmente o se l'avete visto questo weekend, ha giusto fatto uno sketch dove lui faceva il cantante hip-hop, e secondo me, da come parlavo, secondo me lì si sono visti gli schiaffi che gli abbiamo dato. Il Trapper. Esatto. L'aveva ripreso, l'aveva fatto già una volta insieme a Pete Davidson, un altro che... Lo ricordo, sì. Ogni tanto si merita la sua bella ruota di schiaffi. Lì sono stato contento. Comunque, ne approfittiamo per ricordare come funzionano gli abbonamenti. Ci fate molto felici, ci fate molto felici le nostre mascotte che vi ringraziano immediatamente. Ero Tulsa Doom. Grande. Il numero uno. E poi Caprotti vestito da Tulsa Doom. E poi abbiamo una new entry Angela Doom direttamente da Sleepaway Camera. Che bello, che bello. No, è giusto, è giusto, è qua per terrorizzarvi tutti. E poi non dimentichiamo lo schiaffo a Tifo Tashanamè che ci è stato gentilmente donato. Ed è sempre bellissimo. Bellissimo. Benissimo. Allora, cominciamo con la prima news della serata. È finito lo sciopero degli attori. Come è finito? Non chiedeteci una domanda. Ha vinto la tata. In breve ha vinto la tata. Ha vinto la tata. Che ricordiamo era la... La patrice del sindacato degli attori. Fran Reschera ha vinto la tata. Probabilmente per spinimento, credo. Può essere, non lo so. Cioè, il punto è che trovare un articolo che spiegasse per bene esattamente cosa hanno deciso. Era un'impresa. Probabilmente ne riparleremo in futuro. Però intanto, la prima cosa che tutti i magazines sono precipitati a fare è quali film ricominciano a girare. Purtroppo anche Deadpool 3. E anche, soprattutto Nanni, quanto ci hanno messo a ricominciare a fare, come dire, a fare market, no, a promuovere le loro cose in giro per la tv, per internet, più o meno tipo due secondi metti. Ah sì. Sembravano lì proprio, sai, sulla linea di partenza, già vestiti da corridori pronti a scattare. Cioè, non c'è voluto niente. Beh, c'avevano già delle fotine prontissime di cosa, di Hugh Jackman con il costume classico di Wolverine tutto giallo, era già pronta, che già l'avevamo visto, ma ora sono proprio uscite nuove, nuove, fresche, fresche. Avete ragione, vero? Erano tutti lì pronti. Quali c'erano? Però, cioè, secondo me, il cast di certi film, tipo Deadpool 3, secondo me li hanno tenuti i prigionieri lì a dormire. Ho detto, tu stai qua a dormire, non si sa mai che lo show però finisca verso le tre e mezza del mattino, ai tre e mezza ti alzi, ti veniamo a svegliare, ricordati il copione, mi raccomando, studia, lo hai detto, l'ho pronto, ai tre e mezza del mattino, azione. I social media manager lì col pungolo elettrico pronti per svegliare tutti quanti. Comunque, il più pronto di tutti, apparentemente, è stato, allora, aspetta, diciamone per un altro, un altro che ha fatto una cosa carina, io ho visto Kevin Bacon, per esempio, che ha rifatto il balletto di Footloose su TikTok, poi è stata una cosa carina, ci sta, è una roba simpatica. Invece, il più pronto di tutti, quello che aveva. Dico, incontroluce nella sua stalla, molto, molto suggestivo, ci ha fatto una cosa molto carina. A suo modo sobria, per come era, quindi ci sta. Invece, quello che c'era proprio la pagliacciata pronta che ce l'aveva lì, pronta da giocarsi al via, era Jared Leto, l'avreste mai immaginato? No, ma mi sta cascando la mascella, cosa ha fatto? Quanto era quotato? Non era quotato, impossibile da quotare Jared Leto, che fa... In retro è possibile, perché lui ce l'ha fatto col doppio e il triplo carpiato, probabilmente. Lui non solo aveva pronta la pagliacciata con cui festeggiare la fine dello sciopero, ma aveva anche pronto il nuovo disco dei 30 Seconds to Mars. Secondo me che quello era pronto da tempo e aspettava finisse lo sciopero degli attori per evitare che la gente si confondesse, perché altrimenti se lui va in giro a promuovere il disco si confondono, perché anche un attore di sicuro gli scappa gli spoiler sui film che sta girando. Ora lui ci aveva pronto quello e ha unito tutto quanto e si è inventato questa cosa in cui per festeggiare ha scalato, scalato lo dico dalle virgolette, proprio così, l'Empire State Building. E una volta arrivato in cima all'Empire cosa ha fatto? Ha fatto così e poi ha buttato su una... Purtroppo è sceso prima che arrivassero gli aerei ad abbatterlo. Cazzo. Però abbiamo le immagini, questa è un'immagine... Guardate, porca miseria. Che cazzo del fenomeno. È bellissimo. Cioè, in realtà lui era... Adesso io non so che schermo state usando. Ho scelto un'immagine con l'inquadratura larga per dare un minimo di suggestione che sembrasse una cosa semiserie. In realtà lui è imbragato con un cavo gigantesco. Sostanzialmente poteva anche stare fermo. C'era qualcuno su con la carrucola che lo tirava su ed era uguale. Però lui doveva fare i gesti da scalatore. Anche finto di cadere a un certo punto, ma stava... No, intanto è caduto... Roteava così. Tanto è caduto Toshiro e gli sta roteando il caricamento. Proviamo a rimettere già il letto, a vedere se torna. Rimettiamo... Vediamo se funziona. Comunque, eccolo Toshiro, funzionato. E' già il letto. I suoi potenti mesi. Esatto. Comunque, ho un'altra foto di Jared Leto che Scannoma è molto bella. E' quella dove a metà scalata lui doveva andare in bagno, quindi cerca di aprire una finestra. Ma questa è bellissima. Questa sembra quella vecchia pubblicità, mi sembra, della Coca-Cola, con le tipe, vi la ricordate? Le tipe che guardano fuori dalla finestra e passa il muratore con la Coca-Cola. Arriva il manzo con la cassa di Coca. Arriva il manzo con la cassa di Coca. Se non sbaglio era della Coca-Cola. Bellissimo. Tanto si chiedono se era vestito da Morbius. Magari sarebbe stato geniale. Purtroppo no. Abbiamo anche un'immagine di lui che arriva in cima e si mette in posa davvero con questo scattolo del mondo. Che grande, che numero uno. Guardalo qui. Io ho due domande. Se a Timotei Chalamet, o come cavolo si chiama, gli diamo gli schiaffi. A Jared Leto. Per Jared Leto cosa possiamo pensare? È veramente difficile partire con un calcio negli stinchi. Io opto per una trappola di so. La mia seconda domanda è, non è che le comparse che hanno avuto un aumento di stipendio in seguito alla vittoria del sindacato degli attori nello sciopero sono le stesse che poi sono state messe a tirare su Jared Leto? Può essere. Può essere tranquillamente. Molto rischioso. Io l'avrei fatto tirare su da un'intelligenza artificiale. Il resto, c'è Jared Leto, è una vita che vuol fare Tron. Ce la fa, tra l'altro. Vabbè, questa sarà una notizia per un'altra volta, quando ufficializzeranno il progetto. Però lui era una vita che doveva fare il sequel di Tron. Mi sembra che non c'era un punto. Durante una delle nostre dirette abbiamo annunciato che il progetto stava partendo. Però non mi ricordo se lui era coinvolto o meno. Se lo ricorda, ditelo pure. Se si merita almeno una 619, questa non è una cosa porn, è una cosa del wrestling. O entrambe le cose, dipende. O entrambe, entrambe. Dipende dai punti di vista. Se c'è un 1,5 è una mossa del wrestling. Se c'è un 1,5 è aperto alla vostra fantasia. Comunque, una volta arrivato in cima, dopo aver fatto il servizio fotografico, cosa ha fatto per festeggiare? Io sono fermo lì, lo sapete voi? Io sono andato nel deserto per una settimana a parlare con gli spiriti. Ah, ok, ok. Io so che ha raddoppiato il suo rientro nell'autopromozione, facendo una cosa terribile. C'è questa challenge che va sui social media fra i giovani che i content creator ti fermano per strada e ti fanno, ehi tu, che canzone stai ascoltando? E tu gli dici che canzone stai ascoltando e tutti sono felici. L'hanno fatto anche con Jared Leto, che ovviamente stava ascoltando una canzone del suo stesso gruppo e poi si è allontanato al rallentatore, forse anche mettendo gli occhi da sole o togliendo. Qual è il bello? È che lui si è davvero allontanato al rallentatore. Lui ha detto che sto ascoltando i 30 Seconds to Mars e poi... Ma tu sei già a Jared Leto, cosa stai ascoltando? Sì, sono proprio io! E poi si è allontanato al rallentatore, incredibile. Chiaramente non poteva ascoltare Italian Room Casuso Cicchi di Egli e le storie tese. Sennò ovviamente stavo ascoltando i 30 Seconds to Mars. La cosa più sincera, spontanea e meno programmata del mondo questo video, è fantastico. È che io me l'immagino, lui che vede la troupe di queste cose qua e li va a fermare e dice, oh dai, fatelo con me, fatelo con me. No dai, c'è Jared Leto, dai che si sa. No, fatelo con me, fatelo con me. Dai, allora io faccio finta di passare di non sapere niente. E loro che gli fanno, guarda, non mi sembra una buona idea. Non mi sembra proprio una buona idea. Mi sembra esattamente come Morbius. Non è una buona idea, guarda, lascia perdere. Ce l'hai un amico, Jared? Attore premio Oscar, vogliamo sempre ricordarlo. Bravo, bisogna ricordare che quell'uomo ha vinto un Oscar. Ha vinto un Oscar sull'uomo. Io non l'ho mai guardato il film per cui ha vinto un Oscar. Io l'ho visto. Tu l'hai visto Toshiro? Dallas Buyers Club, sì. Quel film fatto apposta con Grimbley, un po' meno di soldi. L'idea è quella, un film fatto apposta per smuovere le coscienze dell'Academy. Sono molto d'accordo, sì. È molto ruffiano. È un po' anche l'esciore del Cineforum, niente contro l'esciore del Cineforum. Ho anche una zia che fa parte del popolo dell'esciore del Cineforum. Poi al tempo, Nanni, ti ricordi che Matthew McConaughey era diventato tipo così per fare quel ruolo. Quindi, capito, c'era anche la performance dell'attore che non deve solo recitare bene, deve anche emaciarsi, deve anche cambiare il corpo, deve distruggersi. Capirai l'Academy? Eh, questo è bellissimo, va, capolavoro totale. Eh, vabbè, però... Poi, del resto, cioè, Jared Leto ha confermato il suo talento, che sta in una serie di film dove... Cioè, dove non è mai sembrato un attore in nessuno dei film seguenti, sostanzialmente. Sì, sì. Comunque. E lo devole pensare che lui ha approfittato di questo sciopero degli attori, come dicevi giustamente prima tu, Nanni, per ricordare che lui è sia attore che cantante di 30 Seconds to Mars. Cioè, una persona normale la nasconderebbe questa cosa dal curriculum. Invece, no, lui ci tiene a capire che sono... Sono proprio io, sono lo stesso, non è che quel tizio mi assomiglia. È il Jennifer Lopez maschio. Esatto. Manca solo il contenuto in cui ci ricorda che c'ha 65 anni, ma sta meglio di noi, che di solito è quello che viene associato a Jared Leto. Non so quanti anni a Jared Leto, cioè... C'ha tantissimi. C'ha tantissimi. C'ha 65 anni a Jared Leto. È 65, è sopra i 5, non è un Jackie Chan, però è tipo sulla strada per essere un cangurismo malvagio. Sì, esatto. Va bene, dai, passiamo alla prossima notizia, anche se in realtà non c'ho voce. Passiamo alla prossima notizia. È uscito il trailer, finalmente il trailer intero di Rebel Moon. Il nuovo film di Zack Snyder. Il nuovo film di Zack Snyder. Lunga pausa. Allora, ricordiamo la genesi di questo progetto. Zack Snyder va da Guerre Stellari e dice posso fare un Guerre Stellari? Questa è la storia che ho scritto per Guerre Stellari. A Guerre Stellari gli dicono no, e lui dice allora io mi faccio il mio Guerre Stellari privato con i blackjack. Grande, grande. Mi hai anticipato. Questo di solito la dico sempre io, l'hai detto a te. Dovevo lasciartela fare. Con blackjack e squillo di lusso. Stazialmente è quello. Per cui si è fatto questo colossal di fantascienza. Grazie alla spinta dei bot russi è riuscito a convincermi a pagare. Sceglielo. No, dai, anche delle persone. Anche da qualche persona. Conosco un sacco di persone a cui piace Zack Snyder. E il bello è proprio questo. Tocca difenderlo perché è un progetto originale. Però di nuovo mette in discussione la discussione di originale. E' originale se tu hai scritto Star Wars e poi all'ultimo hai cambiato i nomi e hai tirato via le spade laser. E' sempre originale. C'è una buona notizia però, credo, Nanni. Dura due ore e dieci, qualcosa del genere. Dura come il primo tempo di Justice League, fondamentalmente. Perché per Snyder è un cortometraggio. È un progetto indie per Snyder, una cosa così. Esatto. Vi ricordate quei tempi in cui se un film veniva troppo lungo lo dividevano in due invece che buttare fuori un prequel di Hunger Games lungo tre ore? Vuol dire anche questo. Secondo me il prequel di Hunger Games usciva cinque anni fa lo dividevano in due. E facevano anche più soldi e questa è la cosa più clamorosa. Sì, sì, assolutamente. Perché comunque lo giri tutto in un colpo e quindi la spesa l'hai fatta e mandi la gente al cinema due volte. Però adesso no. Mando una cena una volta sola però rimangono lì prigionieri. A spracellarsi le gonadi. A spracellarsi. Esatto, esatto. Comunque posso dire una cosa su questo Rebel Moon. Io vi devo ammettere una cosa. io non sono mai stato un fan di Zack Snyder però per la prima volta vi confesso ragazzi che questo trailer mi ha dato delle vibes abbastanza positive. Cioè io guardando questo trailer mi sono detto va, innanzitutto per essere una produzione Netflix che quindi sarà una cosa ora non so se si sa se avrà un passaggio in sala questo film. Qualcosa lo faranno secondo me. È una classica proiezione speciale mi immagino. A me vedendo il trailer mi sembra una cosa che comunque meriterebbe la sala. Per essere una cosa prodotta da Netflix ha degli effetti speciali che non vedi in altre produzioni sempre Netflix. Quindi io per la prima volta ho delle vibes abbastanza positive o poi magari sarà una merda però vi devo dire la verità vi confesso che a me il trailer non mi ha non mi ha fatto dire oddio non come quando uscì il trailer di Sucker Punch esatto esatto la prima cosa che ho pensato è al confronto del trailer di Sucker Punch questo mi sembra molto equilibrato nel bene nel male penso Terence dicevi delle uscite in sala non so se sono rimasti indietro di millenni potrebbe benissimo anche essere ma c'è sempre l'idea della finestra in sala per poi essere eleggibile agli Oscar e come dicevi il comparto tecnico vuoi non spingerlo per gli Oscar vinci qualcosina o vieni nominato per qualcosina e metti in curriculum per Zack e invece vedendo il trailer mi sono domandato chiedo a te Nanni che hai fatto innumerevoli esami in inglese nella tua vita quali sono le differenze tra rogue e rebel tra le parole rogue e rebel e ci sono delle differenze però sono sottigliette e cioè non saprei spiegare cioè in questo momento le sottiglieze non vengono magari mi vengono le corse della serata signora maestra per dire che diciamo che col titolo non sei molto impegnato è ambientale allora cioè rebel è più ribelle generico rogue è il termine lo si usa anche sai il famoso stato canaglia di Top Gun maver rogue anche in quel senso lì quindi è una sfumatura di quel tipo mentre rebel può anche essere il figlio che risponde male alla madre che ne so un esempio estremo però è quel tipo di roba più o meno no io stavo cercando appunto di capire nel trailer non si capisce non si vede molta trama cioè quello che si vede è super lineare generico il film parla di un pianeta pacifico arrivano dei cattivi lo vogliono conquistare i buoni decidono secondo me ci dobbiamo difendere e si difendono usiamo una che è stata amica dei cattivi che è bravissima a menare le mani esatto la cosa che si vede cioè la cosa che fa piacere vedere quella che dà le vibrazioni giuste a me è che se mena forte è bene e sono quelle cose che Zack Snyder sta a fare bene cioè voglio dire Batman il famoso Batman v Superman le cose migliori erano quando Batman entrava in azione menava cioè quello rendeva delle belle scazzottate vabbè le scazzottate di 300 insomma quelle cose lì le fa bene e quindi di quello sono contento e il resto cioè super lineare super generico forse anche presto per dare giudizi effettivamente certo non chiamate preparata allora la protagonista ecco forse questa è un'altra cosa che mi ha stupito cioè la protagonista è Sofia Butella è bravissima e si merita un ruolo da protagonista in una roba grossa quindi sono molto contento a destra come potete vedere c'è Ciccio di Pacific Rim e lui a sinistra non me lo ricordo lo so per quello che ne so è Roman Reign della WWE però in realtà so che non è lui però in questo momento non mi viene chi sia vediamo se il cast di Rebel Moon su IMDB mi aiuta però insomma lei intanto boh ce lo so come dire c'ha un'età un pelino più avanzata rispetto a Raid della nuova trilogia di Star Wars quindi cioè non sono andati su una giovanissimissimissima come tendono a fare di recente in compenso lei è brava in compenso ha un background da ballerina per cui quando c'è da fare dell'attività fisica è super preparata cioè lei era nella mummia quella con Tom Cruise e il ruolo che aveva nella mummia di Tom Cruise era puramente fisico era quasi interamente di movimenti quindi lei è brava a fare quella roba lì poi ha dimostrato secondo me la si è vista in Atomica Bionda quella si è vista in Prisoner of the Ghost anche con Nicolas Cage volendo anche il climax di Gaspar Noé quindi lei ha un'ottima presenza anche anche cioè quando deve recitare normalmente non per forza quando deve ballare ma infatti si vede secondo me nel trailer che sai il fatto suo al di là di tutto cioè non mi sembra male cioè in Oltre in Oltre Artemis era proprio forte anche che anche lì c'era c'era da picchiare ma con un senso diciamo diciamo era un film di menare con Jodie Foster ecco sì sì ma è vero che non l'ho mai guardato però ce l'ho presente e anche Bautista che si sa che esatto mi piace recitare mi piace essere intenso sì sì comunque diciamo che in una gara a cercare un'ereda Mila Jovovic lei è tra i nomi più credibili assolutamente lo è già da un po' ecco ora io ci spero in questo film spero che sia spero che sia bello devo dire la verità cioè metti che in questi tempi un film così che non è tratto da niente alla fine risulta bello ha successo e dà vita a un nuovo franchise ma di questi tempi butta via sì tocco fare per lui perché è un progetto originale non è tratto da niente era tratto da qualcosa fino a un minuto prima e gli ha messo due ritocchini qua e là sì certo questa roba mi farà impazzire fare veramente impazzire è veramente il contrario di quello che succede con altri progetti dove possono inventarsi a storie che vogliono che parli di qualsiasi cosa e poi per vendere devo cambiare il nome e dire questo però si chiama Batman oppure questo si chiama che ne so è l'unico modo con cui vendi una storia originale oggi facendo il giochetto inverso tipo Joker anche esatto tipo Joker anche se Joker ha semplicemente fatto il remake di una cosa e l'ha spacciata per per un'altra cosa quindi ci si va veramente a incartare violentemente e volevo far vedere delle altre immagini tipo questa è molto bella perché c'ha le lucine colorate si sente quasi JJ Abrams esatto esatto volevo far vedere questa perché è una bellissima fazza bella questa è molto bella e poi volevo vedere volevo far vedere quest'altra fazza che è ancora più bella questa è veramente bella questa è un questo è un dal pianeta dei muffloni la stessa Netflix a vendere Rebel Moon come space opera e stavo pensando adesso quanti altri film dopo Star Wars sono stati sì dopo che Star Wars aveva fatto la space opera la prima non la prima però diciamo quella forse definitiva forse quella che ha occupato quel posto lì nell'immaginario degli specie ma parli proprio dello Star Wars del 77 sì sì proprio ah proprio quello ah vabbè sì e poi ovviamente tutto il franchise di lì a seguire è stata un po' la space opera per eccellenza a livello di grandi budget poi soprattutto e mi chiedevo se qualche altro distributore produttore avesse avuto diciamo l'ardire di comunicare il suo film e dire no no questa è una space opera e questo è lo Star Wars di Zack Snyder sì cioè una cosa ha creato un paragone che mi viene da fare cioè se avete seguito insomma tutta la faccenda Snyder Cut tutto quel culto della sua persona che ne è nato da tutto quel movimento secondo me la speranza che ha per funzionare a meno che a me gli viene veramente il colpaccio e che ha fatto veramente il film bello come non gli capitava da una vita ed è una roba che non gli si può dire niente che non la escludo a priori perché a me comunque Zack Snyder mi piacciono molte delle cose che fa non tutto ma molte delle cose che fa soprattutto a punto di vista visivo eccetera però la mia idea è che questo cioè che lui stia lentamente diventando una specie di Ron Hubbard e questo sia il suo Battlefield Earth non so se se vi dà quell'idea lì cioè c'è un culto dietro alla sua figura c'ha dei seguati che lo seguono in modo talmente religioso e veemente che si sta ritagliando un po' la sua nicchia totalmente personale cioè prendiamolo da un altro lato immaginate un un equivalente colossal supereroistico fantascientifico del tipo di seguito che ha un Kevin Smith per dire quelle cose per cui lui ormai è diventato un autore con la maiuscola con la sua cifra con i seguaci che quello che fa va bene esattamente come lo fa lui eccetera gente con cui lui comunica mi sembra abbastanza spesso per cui ho l'idea che si sia formato un po' quel tipo di nicchia lì proprio una nicchia specifica sua come può averle un Kevin Smith come possono averle come di solito hanno certi autori indipendenti con la differenza che lui fa dei colossal di fantascienza sarebbe non so ho quell'idea lì adesso la battuta di Ron Hubbard è esagerata anche se secondo me no allora io non ho mai verrà fuori con della roba Zack Snyder è comunque uno che ha minacciato di fare dei film tratti da come si chiama battaglia per la terra no non da battaglia per terra no porca miseria aveva fatto un altro film dalla forte connotazione politica adesso mi scappa il nome da Enrand mi sembra ma che ha fatto o che voleva fare no che voleva fare l'aveva annunciato poi non l'ha fatto ah la la fontana l'ha fatto esatto sì sì non mi ricordo come si chiama un teromismo ai massimi livelli esatto sì cioè mi sembra che staccatosi da Star Wars lui finisca probabilmente per non dico per far quella roba lì ma per avvicinarci sì sempre di più ed arrivare veramente a mettere in scena la sua visione totale anche dal punto di vista proprio filosofico filosofico gigante eh ok lì dobbiamo lì secondo voi dovremmo preoccuparci allora in questo momento io più che preoccupato sono incuriosito però è una cosa che sto cominciando diciamo a odorare e mi incuriosisce ok ok io non saprei cosa cosa dire perché devo essere sincero io quando quando si parla di fandom di Zack Snyder io mi sorprendo ogni volta che esista un culto così forte riguardo a Snyder ma non per testimoni di Snyder esatto Giampiero esatto Giampiero cioè io lo capisco se se slow motion ology Giampiero is on fire come sempre Giampiero sei non fai prisionieri stasera e no se lo capisco molto bene e lo avverto quello di quello il fandom di Christopher Nolan per quanto riguarda Snyder secondo me è una cosa molto americana cioè in Italia la sentiamo meno questa cosa qui e a me ogni volta che mi ricordo che è esistito una petizione per lo Snyder per lo Snyder cut cioè ho come quei momenti di ah già è vero che c'è un fortissimo c'è un fortissimo fandom intorno a questo a questo a questo regista cioè mi stupisco come quando scopro che release the Snyder church di Cestigno 01 cioè mi stupisco dell'esistenza come quando scopro che dietro Five Nights at Freddy c'è un culto talmente enorme da fargli fare il botto nel primo weekend di 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 sala e detto questo tu stai suggerendo quindi che ora lui sta andando verso una dimensione più autoriale adesso che si è permesso di poter che si è guadagnato la stima e l'autorevolezza di poterlo fare perché prima doveva un po' fare quello che adattava le graphic novel in un certo senso doveva fare sì era quella quella della Justice League dello Snyder cut è stata una delle power move più clamorose della storia del cinema c'è un film che non aveva il minimo senso che uscisse non l'aveva in teoria e quando l'abbiamo visto l'ha confermato anche nella pratica e però è uscito lo stesso e con un investimento dietro fuori da qualsiasi condizione per cui forte da quella mossa lì se lui si crede onnipotente io cioè capisco perché diciamo oltretutto in un'epoca in cui le major eh tagliano i film rinunciano i film che sono già pronti e già fatti per motivi fiscali esatto una cosa completamente fuori di testa e comunque Zack Snyder riesce a fare riesce a fare quello che ha fatto se è vero e come dici tu Nani io sono d'accordo che lui ha una nicchia talmente agguerrita che non smetteranno mai di dargli 150 milioni di dollari per fare quello che vuole fare sarà sarà bellissimo ce lo troveremo a 80 anni o a bussare alle porte come dice Davide Schiano con i suoi adepti che chiedono avrebbe un minuto per fare Zack Snyder o ce lo troviamo a fare fin da 200 milioni di dollari con Jared Leto 80 anni anche lui che cammina rallentatore e lo fermano e lo fermano gli alieni e li chiedono cosa stai ascoltando l'ultimo disco di Sir The Second World no allora la domanda chiave è sostanzialmente quella che fa Mark Holland che dice quanto sarà grossia effettivamente questa nicchia di fan più di quella dei fan di un Del Toro che ciclicamente colleziona flop pur essendo acclamato allora vabbè Del Toro è un percorso lievemente diverso secondo me Del Toro già è entrato nella scia della gente tipo Spielberg o Scorsese che ha una reputazione talmente alta come autore esatto che tu lo paghi andando in perdita quasi quasi calcolata pur di portare prestigio insomma pur di portarti prestigio Zack Snyder insomma la domanda tecnicamente è quella cioè che non si capisce effettivamente quanto sia grossia la nicchia l'unico modo lui va su netto c'è andato anche con Army of the Dead Army of the Dead che è stata un'operazione senza senso anche quella nel senso che non si sa quanto successo abbia avuto perché Netflix non butta fuori cifre quello che si sa è che a un certo punto c'è stato uno spin off di questo suo film di zombie e c'è stato uno spin off senza gli zombie a cui era stato dato il green light prima ancora che quell'altro per cui anche lì non si capisce l'unico modo che è per misurare quanto potente è Zack Snyder in generale è per il fatto che Netflix continua a dargli dei soldi per il resto lo sappiamo che Army of the Dead è diventato chissà cosa si può dire che non si sa tecnicamente quanto sia questa nicchia della religione di Zack Snyder però si sente cioè magari non si possono comprare ma si sentono ogni singola volta che siano comprati da qualche hacker russo o meno sempre per stare al gossip cinematografico però si sentono tutte le volte sì secondo me il paragone con Del Toro non tiene soprattutto per il fatto che Del Toro ne ha fatti pochi di film sui quali la critica si è divisa o l'hanno sbeffeggiato diciamo Snyder è uno che quasi puntualmente viene spesso sbeffeggiato dalla critica e quindi la nicchia è agguerrita proprio perché lui è il lui è il cineasta mainstream che fa le cose anche le fa le cose da nerd che fa i cinefumetti e viene però e non viene però tenuto lassù come come invece magari ci sono state parole molto molto buone per altri come per esempio James Gunn forse è per quello che sono agguerriti perché dicono ma perché parlate bene di James Gunn e non parlate bene dei lavori del nostro beniamino io direi mettiti a sedere se c'è del tempo che ti lo spiego con calma Nanni è proprio qui che si incazzano è proprio qui che firmano la petizione Nanni Cobretti non ha capito un cazzo del nostro amore del nostro credo non ha due minuti per parlare con noi del nostro del nostro salvatore e noi firmiamo la petizione per farvi vedere che lui è un genio e perché quel film è stato martoriato dalla produzione ma lui è un genio e ve lo farà vedere che è un genio esatto è proprio per questo capito sì vabbè che ci devi fare cioè alla fine i film sono fuori ce l'ha fatta se fa pagare guarda quanto sono colorati guarda gli danno tanti soldi da prendere da prendere una pittarla di blu e metterci e corna da muflone quindi che gli vuoi dire c'è ragione lui c'è ragione lui c'è ragione lui quando smetterà di quando non potrà più fare questo tipo di film quando dovrà fare i film che gli escono direttamente in DVD e li trova in parte non è media world allora li però insomma esce chi vuol vedere se lo vede comodo sono tutti contenti e va bene così io ho tantissimi dubbi su di lui però lo preferisco a tantissima altra gente cioè questo c'è poco a fare cioè per tornare un attimo al trailer di Rebel Moon lo si può sfottere finché volete perché non dice niente di originale perché era un ex guerre stellari però proprio già da impatto visivo dico la cosa più banale che si possa dire ormai negli ultimi cinque anni sembra meglio di un Marvel è una banalità però è vero no è vero pensavo ci serve Zack Snyder è quella pensavo tiravi fuori tipo mi sembra che abbia una buona fotografia e dei bravi attori montaggio serrato mi sembra montaggio serratissimo tranne i momenti di slow che ci sono ci sono due o tre momenti di slow che non se li fa mai mancare il nostro caro Zack il nostro amico Zack va bene passiamo a un altro argomento controverso la sesta stagione di Stranger Things cos'è che era sì esatto ma come vi abbiamo anticipato dal cold open è uscito il trailer di un nuovo Ghostbusters ora la cosa colpisce per un paio di cose innanzitutto che penso pochissimi sapessero che stavano facendo un sequel di afterlife perché era una vita che non se ne parlava cioè era una cosa che quando è uscito afterlife progetto super controverso però davano tutti per scontato che sarebbe uscito un sequel però in realtà non se ne è parlato molto tipo una delle cose che non viene detta è che non c'è Jason Wright ma a dirigerlo però il resto del cast c'è tutto c'è Porras c'è ragazzini per cui hanno deciso di continuare su questa cosa il trailer è servito anche come reveal del titolo definitivo e il titolo definitivo è Ghostbusters Frozen Empire l'era glaciale che in italiano diventa l'era glaciale l'era glaciale sì esatto perché ho preparato un sacco di roba ma non ho preparato una foto di Scrat che ci sarebbe stato un sacco e invece no invece sai cosa ho preparato no aspetta no non l'ho preparata sì ce l'ho preparata però non l'avevo caricata quindi adesso ho rovinato la battuta fottendo completamente i tempi facciamo la parentesi che poi tra l'altro Reitman lo scrive si sa qualcosa sul perché non abbia voluto dirigerlo semplicemente gli pesava il culo perché si vergogna boh cioè secondo me ho scritto una merda tenete fate da voi divertitevi no allora il suo Ghostbusters era una mossa plattalmente commerciale anche da parte sua e se non vogliamo chiamarla commerciale chiamiamola motivata dal fatto che fosse una questione di famiglia e che lui voleva riavviare questa cosa voleva fare l'omaggio al padre l'omaggio a Harold Rennis eccetera e uno come lui che normalmente è un altro dei pochi che fa ancora i film che si scrive da solo e che vuole lui un'operazione di questo genere la fa una volta e basta non vai avanti non c'è bisogno di andare avanti lui penso che fosse contento di aver diciamo riavviato il brand in un momento in cui era affossato detto questo c'è il titolo italiano è stato confermato anche il titolo italiano che è porca miseria Ghostbusters aspetta Ghostbusters minaccia glaciale ah sì minaccia glaciale sì faccio notare faccio notare un paio di cose uno che in originale Frozen Empire richiama Frozen se vogliamo e quindi un grande successo in italiano minaccia glaciale richiama minaccia fantasma che fa venire i brividi gli sgrisoli esatto e no del resto non potevano chiamarlo il regno del ghiaccio e basta perché sennò sarebbe stato sarebbe avrebbero subito pensato Game of Thrones quindi abbiamo deciso così minaccia glaciale potevano chiamarlo l'era ghiacciata per fare come con Frozen esatto ghiacciata io infatti mi ricordavo minaccia ghiacciata ed era bellissimo però il punto è questo il punto è che sembra sembra che ne so sembra il nome di una puntata di un episodio del cartone animato cioè sinceramente cioè mi dicono Ghostbuster minaccia glaciale a me viene in mente una roba che esce direttamente su Italia 1 la domenica alle tre e mezza sono scherzi che l'altro giorno leggevo che esatto c'è penso ci sia anche sulla pagina in wikipedia in inglese del film che Nanjiani diceva che l'idea era proprio ispirarsi al al cartone animato quello di una ventina di anni fa sì esatto che è esattamente quello che pensi guardando il trailer proprio mi sembra di rivedere quelle puntate da sabato mattina di quel cartone animato lì è proprio c'è lo stesso umorismo no lo stesso lo stesso dei stessi colori così proprio sì cioè che è la cosa che fa più strano cioè penso che di tutti i franchise che hanno tentato il reboot Ghostbusters è forse uno dei più strani perché è quello che quando ha tentato il reboot nello stesso spirito dell'originale è fallito e per farlo funzionare hanno dovuto fare una cosa completamente diversa che però per qualche motivo che io ancora non riesco a spiegarmi iFans è sembrata più fedele in un certo senso è diventato era una commedia era un template per far scatenare tre comici del Saturday Night Live e l'ha trasformata in una roba con il world building i ragazzini e l'epica nostalgia e è un'altra cosa veramente veramente ora che hai elencato tutte queste cose veramente non capisci come mai l'hanno trasformato in questa cosa e ha avuto un gran successo mentre la versione al femminile nonostante fossero tutte straordinarie comiche del Saturday Night Live quindi era tutto perfettamente in linea con lo spirito del film originale quello non andava assolutamente bene questo invece va benissimo perché c'è uno dei protagonisti di Stranger Things perché il clima è quello perché le atmosfere sono quelle e adesso Ghostbuster è serio e zitti io Ghostbuster serio con i bambini cioè come fa la gente dire ah era esattamente quello che volevo è una roba io sono perfettamente d'accordo con te io l'ho visto poi ti lascio la parola Toshiro scusami io l'ho visto lì come si chiama che poi noi l'abbiamo chiamato Legacy Ghostbuster Legacy l'abbiamo chiamato Afterlife se non sbaglio sì noi l'abbiamo chiamato Legacy Ghostbusters la classica categoria dei sottotitoli in italiano cambiati ma pur sempre in inglese però è una moda questa cosa del Legacy perché anche Space Jam è il nuovo si chiama Space Jam a New Legacy mentre l'originale oggi secondo me si svegliano e hanno il calendario con le parole oggi bisogna usare questa parola qui dai butta vado a Dio con marketing vanno a cercare la parola chiave per il CEO che cacchio ne so adesso dirò parole a caso però così di buon senso mi sembra la classica parola che ricercano vedono che risuona tantissimo un'altra parola che usano tantissimo che si crea attorno una narrazione è sempre quel mondo quel tipo di comunicazione che c'è adesso che funziona adesso giustamente quasi scientifica e quindi funziona Legacy vai di Legacy insisti non funziona che rifai quello con lo spirito originale rifai il film nello spirito originale e ci metti gente incredibile tipo Kristen Wiig la McKinon la McCarthy e rifai i piccoli brividi perché non lo so che sta bene con il pubblico che c'è adesso cioè io sono contento se fanno Ghostbusters per i bambini alla fine io sono contento che il tuo rub prenda un sacco di soldi per fare le faccette mi fa solo strano che è il raro caso dove una cosa è completamente diversa dall'originale ma i veri fan dicono finalmente qualcosa per noi e mi chiedo a che cazzo avete guardato in 40 anni no 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 ma non sono i veri fan che dicono una cosa del genere cioè i veri fan e dicono oh finalmente finalmente un film senza le donne non lo so cosa il pensiero che possono aver avuto quando è uscito i protagonisti originali ah è vero perché ci sono loro non importa che si ammessi così ci sono loro va tutto bene e va tutto bene che in realtà nemmeno perché c'erano pure nell'altro reboot so che nell'altro reboot ci sono personaggi diversi no facevano nel reboot quello nel reboot quello al femminile c'erano ma facevano dei personaggi diversi e c'erano poco in questo qua tornano effettivamente a fare i ghostbusters cioè proprio c'è la legacy c'è proprio la legacy poi vabbè cioè chiudendo il discorso sul reboot del 2016 era tutto più che giusto sulla carta e il problema che mi manda in tilt ogni volta è che sulla carta era giusto ma la gente si è lamentata già di come era sulla carta esatto sui risultati effettivamente si è dimostrato debole e poco ispirato eh ah ma sì cioè dimentichiamo c'è un reboot non riuscito mi ha solo mandato in matti che la gente si è buttato giù prima quando quando le premesse erano ancora erano ancora quelle giuste sono perfettamente d'accordo sulla carta poteva essere fighissimo ed era giustissimo ma purtroppo viviamo in questo mondo qui e invece quando ho visto Afterlife ho detto questa roba mi sembra quanto imbarazzante ora che ho visto il trailer del sequel ho pensato questa roba mi sembra ancora più imbarazzante spero che la finiscono con il 2 invece no faranno lo so nel momento in cui ha preso la direzione di seguire i cartoni animati invece che i film adesso vogliamo è onesto questo facciamo vedere delle immagini questo è il cast questo è Paul Rudd che prende milioni per fare le faccette esattamente questo c'è uno di Stranger Things c'è il sosie di Timotei Chalamet di Stranger Things c'è il personaggio della ragazzina che mi fa morire è un'altra delle cose di Hollywood che mi fa morire questa cosa che ti fanno vedere la foto della ragazzina non ti dicono chi è tutti gli dicono ma è sicuramente la figlia o la nipote di Egon ma no no non lo diciamo no 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 non pensate a queste cose dai e lei ma no no non lo diciamo e poi alla fine ci finiscono sorpresa e lei e perché mi chiedo perché lo tenete nascosto l'han capito tutti perché si credono furbi e perché ti devono dare quel brivido che al primo minuto arriva la conferma e tu dici è davvero lei per non c'è è per darti quel brividino lì in più all'inizio non so imbrogliando vabbè comunque l'altra cosa positiva è che siccome già il Afterlife o Legacy aveva scopiazzato uguale la trama del primo a questo tour toccava inventarsi qualcos'altro e quindi se inventano tocca lavorare a sto giro tocca lavorare a sto giro e come diceva qualche commento più sopra che adesso spero di trovare la trama a questo punto parla di qualcuno eccola qua dai di schiena che diceva parla di qualcuno e ha lasciato il frigo aperto però no il frigo di Zul ma il frigo proprio quello con il ghiaccio secondo la la minaccia sbrinata si torna quindi a New York a questo turno e questa è la sede che è carina una bella immagine comunque nell'ottica di fare una roba da cartone animato amen cioè è questa portateci i nipoti stavolta è facile che piaccia davvero più a loro che a voi e sarà e sarà la roba lì va bene va bene allora siccome si è collegato in anticipo lo faccio entrare subito abbiamo a disposizione l'ospite speciale di questa sera dopo tanto tempo finalmente ringrazio di persone non solo alla fine di ogni episodio abbiamo con noi Cristiano Liprandi eccolo qua ciao amici ciao ciao Terence come state benissimo molto bene come stai io sto bene mi sono collegato in anticipo perché ho sentito parlare di Ghostbusters e io sono venuto nervoso subito 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 la carogna volevo dire delle cose ma no 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 sono molto preoccupato sono molto preoccupato perché Legacy aveva delle premesse veramente interessanti partire da regista il cast comunque a me piace a me a Firrudio mi fa ridere non so sarà che prende i milioni per fare le faccette ma a me le sue faccette mi piacciono no no io sono estremamente contento che lui prenda le vagonate di milioni per fare le faccette è proprio un attore che mi fa anche Carrie Carrie Coon a me la figura femminile mi ero innamorato di lei in Fargo nella serie tv ah è vero è vero che era in Fargo io sono un grande stimatore di tutto ciò fanno i Coen a priori e difficilmente qualcosa dei Coen non mi piace però a parte che nel progetto nel progetto della serie tv Fargo erano solo produttori però lei vi era proprio piaciuta però lo spirito era perfetto sì esatto allora innanzitutto guarda segnalo che come sei entrato la gente ha capito cosa stiamo per fare sono già abbonati in due al volo quindi diciamolo diciamolo subito sei qua perché sei qua per dare la possibilità a uno degli abbonati al nostro canale certo di ricevere in omaggio una tua illustrazione allora fammi un tanto prima ringraziare chi si è abbonato al volo appena t'ha visto io sono gastroquiz esatto vero grazie mille a ersanto per l'abbonamento di livello 1 e grazie mille anche a pascreset per l'abbonamento di livello 1 e come da regolamento vi facciamo ringraziare anche dalla nostra mascotte abbiamo Tulsa Doom abbiamo un bel caprotti classico e poi abbiamo per la prima volta in Eurovisione vi regalo Paolo Gucci bello che bello che bello si vede solo la mano di Toshiro si vede solo la tua mano Toshiro la bellezza è bellissimo questo spot comunque insomma sei qua per dare la possibilità di ricevere un omaggio appunto un'illustrazione che facciamo facciamo vedere l'illustrazione intanto sempre per stimolare gli abbonamenti questa è l'illustrazione che potete ricevere a tema lupo monar americano londra ricordiamo l'abbiamo abbiamo già dato in omaggio una di queste illustrazioni quando abbiamo fatto appunto la serata tema lupo monar americano londra l'anno scorso però c'è un'altra però comunque è fighissima e quindi ci sta però insomma ne approfitto ovviamente per pubblicizzare il negozio in generale per il tuo negozio su Etsy e quindi trovate Magazzo Studio su Etsy lo trovate anche su Instagram e non solo trovate anche delle copie fisiche in un paio di negozi cioè trovate le copie fisiche allora io sono sto vendendo le mie copie le trovate anche a Notorious alcune stampe Notorious in Reggio Emilia città a te caro se non erro suono della zona suono della zona comunque sì sul sito Etsy da quest'anno ho anche la c'è anche la facoltà di prenderle già incorniciate prima io vedevo solo le stampe quest'anno invece da quest'anno sull'ordine puoi fare la richiesta anche della cornice ho degli esempi da far vedere ho degli esempi da far vedere il volo spedizione in tutta Europa Europa Unita tre o quattro giorni di spedizione comunque trovate tutto sul sito questo è un bellissimo slot per fare un esempio un altro questo è il best sell sì ok un altro bel esempio classico un bel trinità bellissimo e poi giusto sono andati in ordine di personaggi che si moltiplicano tra l'altro l'altro ieri sono andato a vederlo nel libro originale che per il 25esimo anniversario lo davano al cinema in Italia sì 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 a proposito di Cohen esatto va bene quindi hai preparato per noi una allora funziona così tu ora farai una domanda sì che devo leggere e metto gli occhiali d'anziano esatto perché ragazzi 50 anni si avvicinano per cui è serissima la situazione guarda anche con lo sguardo un po' da pornoattrice ok comunque funziona così ora Christian farà una domanda domande difficili sono farà una domanda state molto attenti a tema con l'illustrazione vagamente a tema con l'illustrazione il primo abbonato mi raccomando il primo che si è già abbonato con noi che risponde correttamente alla domanda riceverà in omaggio la stampa dell'Upo Nonare Americana Londra e lo dico subito prima di dimenticarmi il vincitore o vincitrice dovrà poi comunicarci insomma l'indirizzo a cui mandare la stampa quindi chi vince ci contatti immediatamente dopo o su Twitch lasciandoci un messaggio su Twitch oppure scrivendo una mail anzi ce l'ho pronta il banner oppure scrivete una mail a palestra chiocciole 400 calci punto com e lasciateci il vostro nome lasciateci il vostro nick su Twitch per confermare l'indirizzo insomma a cui mandare l'illustrazione detto questo aspetta c'è un altro abbonato mi sembra ecco c'è un altro abbonato che ha fatto appena in tempo grandissimo l'oste ubriaco l'oste ubriaco mi sembra fin troppo sobrio per abbonarsi così rapidamente scattando quei riflessi quindi grazie mille per te i ringraziamenti obbligatori a parte a parte di Tulsa Doom a parte di Re Caprotti però non abbiamo ancora visto in vesto ufficiale e poi Toshiro dietro Toshiro dietro sembra i molestatori no sembra vorrei vorrei avere a portata di mano un preservativo esatto e poi anche un po' Paolo Gucci perché quando oggi ho visto la pagliacciata di Jared Leto ho detto bisogna fare entrare Paolo Gucci nel roster delle mascotte di 400 calci immediatamente va bene siete pronti io direi a Christian di partire con la domanda vai domanda ovviamente non sono ammessi errori grammaticali o refusi vi ricordate che per una volta c'è stato un quiz dove il primo che ha risposto ha sbagliato una vocale nel nome non va bene non va bene deve essere scritto giusto essere scritto giusto vado con gli occhiali da Moana Pozzi vai ok allora John Landis è stato il regista di uno dei videoclip più famosi e costosi della storia quale? io ho risposto tac eccolo qua la risposta esatta è già arrivata direi che il primo rispondere è stato Vigli Carpazio risposta assolutamente corretta e anche in tema quella serata visto che abbiamo parlato di Ghostbusters è perfetto quindi Vigli Carpazio contattaci e insomma ti faremo avere la stampa del lupo monar americano a Londra che bello che bello congratulazione Vigli Carpazio bravissimo bravissimo anzi guarda per l'occasione si è commosso anche John Todd il Carpazio più veloce del West anzi guarda c'è proprio festa guardate che roba guardate che festa c'è Jason Statham scatenato scusa l'ignoranza ma da dove arrivava questo video quello è il video degli shaman ah ok Jason Statham band inglese di roba acidissima un po' di tempo non l'avrei mai detto anni 90 siamo nel pieno degli anni 90 ok Jason aveva appena smesso di fare il tuffatore olimpionico ma ancora doveva fare l'attore per Guy Ricci e faceva il cubista per gli shaman grandissimo ed era il migliore era il Mauro Repetto degli shaman tutto unto una quantità di baby oil degna di The Rock perché era veramente dopo dopo doccia di tre quarti d'ora per levarselo tutto ma va ma neanche ce la fai a toglierti fantastico va bene grazie mille a Christian grazie a voi ragazzi come al solito comunque al di là di questa iniziativa io domani ricordo comunque i link per trovarti io in realtà avevo preparato almeno anche un'altra news non so se puoi commentarla con noi finché ci sei ma no certo anzi se posso rimanere volentieri anzi posso anche fumare in questo salotto siamo su zoom per cui posso mangiare un mandarino posso mangiarlo si può fare tutto nella palestra dei 400 cani perché ho detto zoom invece che tu c'è che sono abituato infatti anche tu anche io lo uso sono abituato perché sai da quando c'è insomma da quando c'è stata la pandemia è così adesso si fanno molte più riunioni via zoom e vedere la gente che fuma durante le riunioni non ce l'ho più abituato perché non perché non le faccio più dal vivo e quindi non ero non ero più abituato quindi mi fa mi fa sempre sorridere comunque l'altra news che ci eravamo preparati per questa sera è il trailer di Damsel che è un nuovo film di Netflix con Millie Bobby Brown così almeno giustifico anche il nome che mi ero dato questa sera e ci si attacca anche a Stranger Things visto che c'è il suo collega in Ghostbusters il suo morosino c'è il suo morosino fra quel medievale di Stranger Things sì forse è una roba del genere tutto un unico universo narrativo tutto quanto sì allora in realtà facciamo vedere facciamo vedere un'immagine una bella immagine su marchio Netflix in evidenza in realtà Damsel come il titolo poi probabilmente vi farà intuire è è un altro film un po' sul filone di Princess quello che è uscito l'anno scorso su Disney Plus che era praticamente se ve lo ricordate c'è la recensione sui calci probabilmente quando avete visto che 400 calci facciano la recensione di Princess perché il punto è che Princess era una specie di The Raid alla fine però ambientato nel mondo delle fiabe con una principessa rapita era Joy King che facciamo vedere lei era la classica principessa rapita e tenuta prigioniere in una torre e il film invece che essere la solita favola con il principe che la va a salvare eccetera e questo diventava praticamente The Raid al contrario con lei che si liberava doveva scendere dalla torre menando malissimo tutti quelli che incontrava una damsel not in distress esatto il contrario del nome di quel genere lì esatto e questo damsel con Millie Bobby Brown sembra tantissimo Millie Bobby Brown che vede Princess e dice pure io me lo produco e sai che ho in mente una protagonista che potrebbe essere proprio azzeccata per quel ruolo lì io esatto porca miseria per cui la trama è lievemente diversa e stavolta c'è proprio ancora più clamorosamente lei è una ragazza che viene fatta sposare a un principe e questo con l'unico scopo di sacrificarla a un drago e quindi lei mi sembra capire che lei insomma non è di sangue reale ma lei è solo la promessa sposa del principe che viene fatta sposare il principe con l'unico scopo di rimediare una profezia o il cazzo che volete che sia e quindi di darla in pasto a un drago in una caverna lontana e levare la maledizione al villaggio o quel che sarà per scaramanzia lo fanno per scaramanzia per scaramanzia esatto ma il sacro di San Gennaro però diverso e per cui insomma il film poi parla del fatto che lei in realtà insomma si ingegna capisce la situazione si ingegna e in un survival come in un survival movie o una roba del genere in realtà riesce a sconfiggere il drago comunque a liberarsi e dimostrare di essere una damsele basta non una damsele in distress ma una damsele basta questa è la scena dove lei dice io sono una damsele basta non in distress la scena dove dice pure io è il primo arco dove dice ancora sono o non sono una damsele poi a un certo punto trova una spada che è anche un po' un simbolo fallico adesso che ci penso quindi forse non è il caso però lì si scioglie i capelli e a un certo punto è sicura ecco qua veramente non sono una damsele esatto esatto cioè il punto è questo mi ero preparato anche questa immagine qua questa bella immagine della caverna eccetera il punto è questo che l'idea alla fine non è malaccio cioè è la stessa di Princess poi Princess ci aveva acquistato perché era veramente remake di The Raid ma con la principessa dei film Disney e le botte erano fatte bene cioè erano molto più seri di quanto mi aspettassi il regista era un via stranita che effettivamente veniva dai film di arti marziali per cui era una roba che era veramente la mezza via tra i film che guardiamo noi e i tipi di film che normalmente non guardiamo ma che i vostri impoti guardano di noi è uguale questo mi sembra dal trailer ovviamente molto più dal lato del film per i cartini e basta non penso che Millie si metta a squartare delle persone a unghiate spaderà un drago lo vedo molto più survival che di menare quindi con lei che si deve ingegnare per uscire dalla caverna si arrampica di qua e di là deve trovare un modo per sconfiggere il drago il drago nel trailer lo si vede molto in penombra si vede giusto quando sputa il fuoco come tutti i draghi e lei che scappa può essere una roba carina l'unica cosa che mi sento di dire è che non sembra The Princess quindi difficilmente lo copriremo però è bello vedere che si faccia questo tipo di film dove certi personaggi sfociano nel genere di azione pura o di survival o di quel tipo di cose che noi normalmente guardiamo così finalmente che noi abbiamo dei bei film da far vedere al nostro ipotino e farlo crescere pian pianino con le cose giuste diventa la cosiddetta gateway drag come si dice in gergo come arrivare agli slayer cominciando da Bon Jovi con Kami esatto questo è il vostro Bon Jovi e ora voi probabilmente pensate che l'ho detto a caso in realtà se non sbaglio è fidanzata col figlio di Bon Jovi ah lei è fidanzata col figlio di Bon Jovi ma Toshiro tu prima scherzavi o è vero che il film se l'ha prodotto lei no no è vero no è vero raga c'ha 19 anni sta ragazza si produce i film noi cosa facevamo a 19 anni magari c'è anche Bon Jovi dietro la produzione se Bon Jovi scrive la canzone sui titoli di coda proprio si ritorna agli anni 90 proprio l'importante è che non scriva il film Bon Jovi oppure Bon Jovi fa al posto di Camberbatch fa il drago Bon Jovi e canta Shut up the heart e tutto il suo esercito sarebbe una scena sarebbe una scena epica sarà il grande reveal del film e poi ci saranno le immagini dietro le quinte in cui Bon Jovi con le lampadine addosso fa il drago come faceva Camberbatch ai tempi che l'hobbit con la tutina aderente verde e le lampadine addosso bravo e poi non so se ci avete fatto caso ultimamente Bon Jovi c'ha i capelli da signora proprio come tanta rockstar come tante il drago sarà così probabilmente che bello va bene dai direi che abbiamo detto tutto insomma non ci rimane quindi che ricordarvi gli appuntamenti i prossimi appuntamenti lunedì prossimo come sempre appuntamento con le news mentre per questo giovedì avremo un altro ospite speciale abbiamo con noi un altro che non passa da noi per la prima volta è già passato parlo di Simone Laudiero della Buon Costume che è autore del libro ufficiale di Brancalonia ovvero Brancalonia la compagnia della sola per l'occasione insomma presenteremo il suo libro e poi parleremo di due film che scelti da lui perché l'hanno ispirato insomma appunto per il libro due film la trama sostanzialmente uguali diciamo action in modo tangenziale action comedies però la trama uguale ovvero Galaxy Quest e Tropic Thunder uno parla di attori che credono di recitare un film invece si ritrovano coinvolti in una guerra intergalattica l'altro parla di attori che credono di recitare un film invece si ritrovano prigionieri di spacciatori di droga guerriglieri vietnamiti o di non mi ricordo dove è ambientato io l'ho trovato un buon film quello lì proprio divertente sono ottimi tutti e due per quel che mi riguarda parleremo anche un po' di tutti i film di quel filone perché alla fine abbiamo scelto quei due lì ma la trama dell'attore che pensa di essere un film in realtà è in una situazione reale è una cosa che è stata usata più volte da Hollywood parleremo un po' di tutte ci faremo spiegare come mai questi due film hanno ispirato insomma la compagnia della sola detto questo ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito ringraziamo quelli che ci hanno seguito in diretta ringraziamo quelli che ci hanno seguito in differita perché non siamo indifferenti alla differita io non so perché cioè io devo ancora ideare una coreografia per quando dico questo slogan e io non so perché ma boh negli anni mi stavo immaginando quelle cose un po' più alla Sailor Moon sai quando lo dici e cominci a fare così e poi non so forse voglio sperimentare con una cosa di quel tipo faremo una coreografia faremo un balletto esatto devo provare molti cartoni giapponesi e vedere sai i personaggi quando annunciano le mosse o le trasformazioni esatto mi proverò quello con i capelli da signora dovremmo procurarsene parrucche esatto quindi probabilmente farò la mossa mi sbaglierò mi trasformerò in crimi mentre lo dico però non vi preoccupate detto questo che bello sono emozionato ringrazio Cristian Liprandi per la prima volta dal vivo dopo tanto tempo e vai è stato un onore è stato un onore spero di tornare tornerai senza dubbio e comunque sei sei in tutti i nostri episodi grazie insomma alla videosigla e alla grafica che hai fatto per il sito di cui siamo assolutamente debitori e ringraziamo te ringraziamo anche Dario Cogliati che ha lavorato anche lui alla videosigla ringraziamo il maestro Ludwig van Verhoeven per la trinodia per le vittime di Valverde ringraziamo i Nanoworld of Steel per la sigla classica dei 400 calci e ciao buonanotte a tutti buonanotte ragazzi